Modeste azioni preventive possono avviare al bisogno di azioni più drastiche in tempi successivi. Pensate che vi abbiano insegnato parametri come gli intervalli di confidenza in un corso elementare di statistica e che ve lo lascerebbe o fare. Ma se approfondite gli studi, scoprirete che non è consentito. Un frequentista di principio non è in grado di produrre una distribuzione di probabilità. La conclusione che vorremmo sottolineare quando pensiamo alla valutazione è il fatto che le risorse siano scarse. Ho già accennato a questo, cioè che come esseri finiti non possiamo decidere che i nostri scopi siano... Una descrizione statistica dell'eccedenza del governo ha un netto degli interessi. deflazione. Credo che i rendimenti potrebbero calare, per dire, meno dell'1% in 10 anni e meno del 2% in 30 anni. Che sarebbe effettivamente un controllo di politica monetaria da parte delle... coraggiante, vero? Potrebbe persino farvi sentire stupidi. Forse non c'è da meravigliarsi allora che, perfino con i collassi economici in corso in tutto il mondo, la disuguaglianza, l'aumento della povertà, il collasso del debito, i fallimenti delle banche, l'incremento della disoccupazione, solo pochi sembrano comprenderli. Per non parlare dell'economia moderna. Tutto al più, ovviamente, il gioco delle deleghe, dove l'unica soluzione che la gente conosce è il semplice spostamento intorno alle sedie a Sdraio sul Titanic, sperando che qualche politico o qualche indicazione della banca centrale salverà la giornata. Qualche anno fa, dopo essere arrivati alla conclusione che i nostri politici, legislatori e autorità potrebbero proprio essere degli incompetenti, quando si tratta di una gestione veramente intelligente della nostra società, ho cominciato a cercare domande e risposte da solo. Facendomi quelle domande, su cose che molti oggi sembrano dare per scontate, ignorare o, peggio ancora, pensare di non avere alcuna capacità di approfondire. Chi si trova al potere? Deve essere per forza più intelligente e più informato. È una triste base della cultura moderna. Chi dice, rilassati, accendi la tv, continua ad evitarti, sforna un gruppetto di bambini, già che ci sei, e cosa più importante, continua a presentarti in quei posti di lavoro di cui probabilmente sarete convinti che servano a qualche legittimo ruolo sociale. Ricordate l'1% del mondo che possiede il 40% delle ricchezze del pianeta, è arrivato a quel livello perché voi non capite come funziona veramente il mondo. Tuttavia, mettendo da parte questo cinismo, mi dispiace, decisi che avevo bisogno di ricominciare da capo e pormi qualche domanda fondamentale, su argomenti importanti che abbiamo rimosso e dimenticato. Se si facesse un sondaggio, facendo quelle che sono veramente le domande più importanti che riguardano la sopravvivenza e la prosperità umana, come, non so, che cos'è realmente aiuta la vita umana, come viene coltivato il cibo, cos'è l'energia, cos'è crea e rafforza una buona salute pubblica, cosa determina un utile o un dannoso sistema di credenze. Potete star certi che la gente darebbe risposte più concrete sulle statistiche del baseball, tendenze della moda, trame delle sitcom e scritture religiose. Non per sminuire i piaceri culturali e la creatività espressiva che ci danno divertimento nella vita, ma abbiamo una distorsione delle priorità che si è dimostrata incredibilmente dannosa per il futuro della nostra sostenibilità su questo pianeta, dove la maggior parte ha a che fare con evidenti problemi di crescita, non solo non capisce quali siano veramente le cause di tali problemi, ma non sa nemmeno che domande fare. E oggi non c'è ignoranza distruttiva più grande del concetto dei rante noto come economia moderna. È in questo quadro fondamentale che ho trovato il maggiore interesse. Cos'è un'economia? Da dove viene la sua premessa fondamentale? Con cosa abbiamo a che fare esattamente? L'organizzazione della nostra società sta trovando un punto di riferimento. Cosa stiamo facendo? C'è un punto di riferimento? Perché la discussione su questo argomento sembra essere così elitaria? È veramente così complicato? Ero così stanco di essere considerato ignorante in materia, dai sedicenti esperti con cui ho discusso, che ho deciso di impegnarmi e di leggere l'intero programma di studi macroeconomico dell'Università di Harvard, dalla laurea a livello di dottorato, insieme a tutti gli influssi principali, Hayek, Keynes, Ludwig von Mises. E sapete cosa vi dico? Sono veramente felice di averlo fatto, perché avevo alcune opinioni veramente deboli che avevano bisogno di una correzione. Non tanto per quanto riguarda le mie idee sull'economia, ma che la vita è breve e io ho sprecato un'enorme, imperdonabile quantità di tempo leggendo questo linguaggio senza senso. Antiquato ed eccessivamente intellettualizzato. Merda. Bob, te ne occuperesti per favore del pannello dei fusibili? Fai attenzione, non è... Come mostrerà il seguente episodio, l'economia moderna non è per niente economia, è una mera filosofia ideologica, basata su una serie di presupposti a cui è stata data l'illusione di persistenza. Non c'è assolutamente alcuna correlazione con l'integrità scientifica della nostra conoscenza dell'ambiente. Il sistema del mercato monetario, basato su credenze religiose, è al centro della stragrande maggioranza degli squilibri ecologici e sociali che osserviamo oggi nel mondo, purtroppo è considerato normalità, quindi molti non vi fanno caso. Potremmo cominciare a capire che questa pratica e questa idea sono veramente un problema nella società e secondo me sono alla base di una cultura in declino. Terra, curiosa piccola palla di roccia, gas e acqua, non è vero? Difficile credere che questa piccola bolla di elementi chimici fluttuanti nello spazio alimentata dal sole avrebbe dato origine alla nostra vivace, sebbene piuttosto problematica, specie di super scimmie. Una specie che spesso sembra alquanto seria nel voler distruggere il suo habitat. Sebbene dovrei dire alquanto seria nel voler distruggere se stessa. Cos'è la democrazia? Ha qualcosa a che fare con giovani che si uccidono tra loro, credo. Bob, cos'era quello? Non era per nulla divertente. Era deprimente. Non potresti trovare qualche ragazzo che fa partire una bottiglia raso dal culo o qualcosa del genere? Sai com'è la nostra demografia e lo scopo di questo show, vero? Ok, bene, per favore. Comunque, forse è la nostra immaturità, è solo una fase, un rito di passaggio tragicamente comico, simile ai bambini che devono essere scottati da una stufa calda per rendersi conto che non dovrebbero toccarla, o quale che sia la fisica che c'è dietro. Tuttavia la storia e le caratteristiche del nostro piccolo pianeta possono essere descritte scientificamente con una buona dose di precisione. 4 miliardi e mezzo di anni fa la Terra era un composto di gas e polveri proveniente da un'enorme reazione chimica, come una stella in esplosione o una supernova. Nel corso dei milioni di anni questa polvere si era aggruppata in grandi blocchi di roccia. È emerso un marcato campo gravitazionale. I nostri elementi chimici sono stati lentamente riorganizzati e sono comparse le condizioni per permettere la comparsa dell'acqua e di un'atmosfera, le quali sono ciò che hanno generato i primi organismi unicellulari. E così è incominciato il lento processo di mutazione, fino alla situazione molto divertente che è presente oggi. Noi. Naturalmente siete liberi di credere qualsiasi storia che vi piaccia sulla creazione, una costola di Adamo, l'impollinazione incrociata aliena, il brodo primordiale. In fin dei conti l'utilità di tale conoscenza è piuttosto piccola, infatti i nostri piccoli cervelli di scimmia non potrebbero mai avere un quadro completo di qualcosa di così complesso. Eppure ciò che sappiamo è che l'universo è governato da leggi. Non leggi morali e religiose, ma leggi che esistevano molto prima che sviluppassimo un cervello per comprenderle. Leggi che indicano molto chiaramente che o ci adattiamo ad esse, o le rispettiamo, oppure ne subiamo le conseguenze. Questo è il vero volto di Dio, le leggi della natura. Per molti versi la storia del nostro universo è la storia della nostra comprensione di esso e abbiamo percorso una lunga strada come specie rispetto al modo in cui organizziamo la nostra vita intorno a queste leggi. Probabilmente il migliore esempio di questo adattamento, o da altri punti di vista la sua mancanza, è come pensiamo l'economia, il fondamento della nostra sopravvivenza sociale. Molte migliaia di anni fa i nostri fratelli super scimmie hanno iniziato a scoprire come interagire con la natura. Siamo passati dall'essere totalmente alla merce dell'ambiente, raccogliendo il nostro cibo con la caccia, vivendo e migrando, seguendo il ciclo naturale delle stagioni, ad una rivoluzione agricola imparando come coltivare il cibo, creare strumenti sempre più sofisticati per facilitare il lavoro e in effetti imparare a imitare la natura stessa. Infatti questa nuova consapevolezza sempre in aumento ci ha concesso di sfruttare i processi della natura a nostro vantaggio e ciò ha portato questa grande innovazione tecnologica che vediamo oggi. Se la natura sta facendo qualcosa è probabile che siamo in grado di capire come attraverso questi dinamici principi scientifici, grazie all'intelligenza artificiale che funziona per emulare reali processi neurologici, all'ingegneria molecolare che usa la logica dell'atomo per ricreare manualmente gli oggetti materiali. Ed ora i sempre più importanti farmaci per lo spostamento del sangue e la disfunzione rettile che se avete guardato la tv di recente deve essere la più epidemica crisi della salute nel mondo occidentale oggi. Da questa rivoluzione la società umana è diventata meno nomade, raggruppandosi lentamente in città e sono iniziati a nascere i sistemi di specializzazione del lavoro insieme ai mezzi di scambio. Il barattone è un banale esempio. Hai bisogno di uova? Forse potresti darmi un po' di legna che hai tagliato in cambio del lavoro di allevatore. Tuttavia tali pratiche sono diventate scomode, dopo un po'. Quindi l'idea di usare alcuni rari metalli, come l'oro e l'argento, quali mezzo di scambio, aiutò queste transazioni, attraverso un sistema di prezzatura dei beni in termini del loro valore relativo. Questo ha dato vita a quello che oggi conosciamo come il sistema variabile dei prezzi, il quale, tramite i modelli complessivi di scambio e produzione della gente, crea una logica grezza ma semifunzionale, dove i prezzi delle merci rispecchiano l'equilibrio tra domanda e offerta, altrimenti conosciuto come il mercato o valore di mercato. Lasciate che vi spieghi. Quando ci si trova nel centro commerciale e si compra la generazione 85 di iPod 4G, MP3, borsa ecolostomica, fotocamera, telefono, piastre per cialde, state creando un segnale di informazione economica che viene utilizzato per calcolare la domanda. Le preferenze locali e regionali e altri dati risultanti, insieme a milioni di altri consumatori impulsivi, che avendo probabilmente comprato anche la generazione 84 giusto due mesi prima per il doppio del prezzo, crea un flusso aggregato di dati di input e feedback, che permette una regolazione apparentemente razionale dell'allocazione delle risorse, produzione, distribuzione, richieste di lavoro e, ovviamente, consenso dei prezzi sul mercato senza base di domande e di offerta percepita, per non parlare delle informazioni generali di come il team di marketing vi possa fregare ancora di più in seguito. Questo meccanismo è in parte ciò a cui l'ultimo sommo sacerdote della nostra attuale religione economica, Adam Smith, alludeva, con la sua nozione della casualità di una mano invisibile nel libero mercato. E per molti versi era sulla strada giusta. Essa funziona in un contesto limitato ed in modo rudimentale. Infatti, nel 1920, un economista di nome Ludwig von Mises ha presentato l'affermazione ancora altamente dominante che, senza il meccanismo dei prezzi, il calcolo economico, l'allocazione razionale delle risorse, l'organizzazione generale sarebbe impossibile. Egli lo chiamò Economic Calculation Problem. Tuttavia, le cose sono molto diverse oggi rispetto a 200 anni fa, quando Adam Smith ha pubblicato il suo libro La ricchezza delle nazioni e quando Ludwig von Mises ha fatto la sua critica sulla pianificazione centrale. Il fatto è che l'argomento oggi è cambiato. Il dibattito economico ora è cosa sia realmente sostenibile e progressivo per la specie umana, non semplici meccanismi del movimento di denaro. Mentre è vero che il sistema dei prezzi potrebbe permettere, per il calcolo di base dei dati di domanda e offerta, di aiutare ad allocare razionalmente lavoro, preferenza, preferenze, distribuzioni simili, esso ignora reali fattori operazionali che si riferiscono ad una reale ed efficiente gestione della terra e quindi la vera definizione di economia, la quale è efficienza ottimizzata a tutti i livelli. Per esempio, non c'è alcuna considerazione sull'allocazione ottimale delle risorse, basata sui materiali più efficienti per uno scopo. L'allocazione razionale delle risorse non è razionale, se l'uso più scientificamente favorevole di quei materiali naturali non è direttamente considerato e messo a confronto. Non c'è alcuna considerazione sull'efficienza organizzativa della produzione tecnica stessa e tutto ciò che dovete fare per vedere questa follia all'opera e analizzare la macchina dello sparico della globalizzazione. Non c'è neanche considerazione per la necessità di rigenerazione o i protocolli di riciclo, un vero requisito per un uso responsabile e razionale delle risorse su un pianeta finito. E non è neppure presente una reale efficienza di distribuzione e produzione in qualsivoglia ottimizzato senso scientifico tanto e tali sono i mezzi, come sarà meglio descritto tra un momento, anche in contrasto con la logica intrinseca del sistema di mercato stesso. Questi abbinati e molti altri seri parametri necessari per una vera ed efficiente economia vengono semplicemente ignorati o, peggio ancora, presunti essere inerenti alla funzione del meccanismo del prezzo, quando chiaramente non lo sono. Capite il concetto di efficienza del meccanismo del prezzo? Traduce l'interazione personale di massa dei consumatori e limitate valutazioni della domanda regionale, della produzione e della distribuzione. Non ha niente a che fare con come e perché i comportamenti dell'industria sono quelli che sono. Tali fattori sono lasciati al capriccio dei produttori che operano solo per profitto, completamente scollegati dalla regolazione naturale di principi scientifici di sostenibilità. Oh merda. Vedete, alla base di Economic Calculation Problem c'è in realtà l'idea che noi siamo totalmente irrazionali, che non possiamo organizzarci in un modo che sia strutturalmente efficiente. Siamo troppo folli essenzialmente. Quindi dobbiamo avere un'anarchia economica generale per organizzare la nostra società e non c'è altro modo per evitarlo. Ancora una volta oggi è molto diverso rispetto a come era prima e una rapida rassegna della moderna programmazione dei computer e dell'ingegneria dei sistemi vi dirà che non solo è possibile per l'intelligenza algoritmica della nostra tecnologia di misurazioni e sensori, abbinata con il calcolo sinergico dei computer. Indirizzare tutti gli elementi in precedenza esistenti presi in considerazione dal meccanismo del prezzo come lo conosciamo, i fattori davvero rilevanti ma ancora mancanti per la massima efficienza e sostenibilità possono essere inseriti nell'equazione. Questo sarebbe la realizzazione di un vero calcolo economico per l'industria, non i parziali dati grezzi sostenuti solo dal meccanismo del prezzo. Perciò, tornando alla nostra casa, la Terra, cos'è in realtà? È un sistema di leggi simbiotiche. Alla base di tutti i principi di sostenibilità c'è il riconoscimento del sistema di ordine più grande che possiamo trovare come riferimento. Il meccanismo del prezzo, l'altra parte... Oh cavolo! Bob, cos'è successo? Oh Gesù, Lowey! Bob, perché non mi hai detto che Lowey era già arrivato? Signore e signori, abbiamo un ospite speciale qui a Culture in Decline, il nostro guru della logica, il gremlin Lowey illogico. Lowey è una grande insufferenza per tutto ciò che è illogico e si impegna per... Ok Bob, devi rimettere quel dannato demorepubblicano nella sua gabbia. Oh merda, ferma un attimo! Scusate, signore e signori, come ho già detto, Lowey diventa un po' frustrato quando si tratta di qualcosa di illogico. E il demorepubblicano è una sorta di suo nemico mortale. Comunque Lowey, dal momento che sei qui, vorrei farti qualche domanda. Il libero mercato è realmente una buona base per la sostenibilità della specie umana? Assolutamente no. Il libero mercato non ha un logico modello di base al giorno d'oggi, dal momento che il suo quadro di riferimento è separato dalla consapevolezza di regolamentazione della scienza fisica. La premessa è antiquata e pericolosa. Va bene. Beh, che dire, dei desideri infiniti e dei bisogni umani. Come si fa a calcolare una tale complessità? I bisogni infiniti è l'idea che gli esseri umani siano troppo complessi o incompatibili per un'economia organizzata ed ecologicamente efficiente e per lo più propaganda ed illusione. Le riflessioni storiche sul comportamento umano collettivo mostrano profonde capacità di adattamento. E se voi, gente, non foste così manipolati dalla pubblicità, vivendo in un modello economico di consumo e crescita, i vostri bisogni e le vostre necessità sarebbero molto diverse. I vostri valori sono semplicemente distorti. L'umanità ha bisogno di basare le sue necessità sui principi scientifici di sostenibilità. Il vero calcolo economico in questo senso rivelerebbe inoltre come l'abbondanza sulla terra per tutti i bisogni umani è oggi possibile. Il motivo per cui il nostro pianeta ha 3 miliardi di persone che muoiono di fame e di miseria è un risultato del calcolo monetario, non del calcolo scientifico. Il sistema del prezzo è un calcolo errato. E ricordate, la libertà umana è un'illusione romantica. Le persone non hanno mai avuto nessuna vera libertà quando si tratta dell'ordine naturale. O vi adattate o soffrite. Grazie mille, Loewi. Lo apprezzo. Sei molto carino. Beh, ecco qui, gente. Tuttavia, a parte la logica, le nostre opinioni sul sistema economico oscillano in modo drammatico. Quindi, per guadagnare un po' di consenso dell'opinione pubblica sulla questione, ora andiamo in diretta dal nostro inviato di Culture in Decline a New York, Big Scott E.D., direttamente da Wall Street. Grazie, Peter. Qui è Scott E.D., di fronte alla Borsa di New York. Oggi siamo qui, a New York City, solo per cercare di parlare con alcune persone per strada e scoprire quello che sta succedendo riguardo all'opinione sull'economia nel mondo. Vorrebbe parlare di economia? Vuole parlare dell'economia? Vorrebbe parlare dell'economia? Faccio veramente schifo in questo, ma penso che la gente non voglia neanche parlare di economia. Tuttavia, c'è stato un tipo che era intenzionato a parlare con me. Quale pensa sia la definizione di economia qui davanti a Wall Street? Sono solo curioso. Cosa pensa sia l'economia? Beh, direi che l'economia è veramente solo basata sul danaro. Le cose che stanno accadendo, sapete, da qui, da Wall Street, sono solo i soldi che fanno il sistema, creati in tutta città di New York e per tutti nel mondo. Ma è principalmente solo una questione di soldi che fa girare il mondo. So cosa state pensando. State pensando di cosa sta parlando questo tizio. Ma in realtà lui probabilmente capisce tanto di economia quanto io ne capisco di intervistare gente per strada. E sembra che la maggior parte di noi non sappia veramente su cosa si basi l'economia. Comunque sia, di nuovo a te, Peter. Se avete notato, c'è roba in vendita nel mondo come non mai prima. E non mi riferisco alle merci dei vostri negozi locali. Oggi la logica del mercato è che tutto è in vendita e nulla è sacro. Hai bisogno di soldi? Perché non affittare la vostra fronte alla pubblicità commerciale? O meglio ancora, perché non fate un'assicurazione sulla vita alla vostra anziana vicina e quando lei muore potete ottenere un bel pagamento. Sì, è legale. O forse sono le piccole cose che ti rendono felice, quindi piuttosto che mettere quella bambola gonfiabile in auto per utilizzare la corsia del carpooling, comprala. Proprio come nel Minneapolis. O forse hai voglia di macellare quel rinoceronte nero in Africa a rischio di estinzione. Bene, puoi. Costa solo 150.000 dollari. Ma ehi, è lì. 150, dai. Non vedo l'ora di mangiare quel rinoceronte. O più seriamente, forse i vostri figli non stanno eccellendo a scuola. Bene, il mercato ha una soluzione. Pagateli. Pagateli per leggere e prendere buoni voti, come fanno a Dallas in Texas. Ma forse è eccessivo perché nel momento in cui raggiungono l'età del college, le più prestigiose università guarderanno dall'altra parte durante la missione, una volta che è stata fatta una donazione bella pesante per quella nuova ala della biblioteca. Vuoi servire il tuo paese ma sei stanco di tutte quelle fastidiose regole di guerra delle Nazioni Unite e della misera paga? Unisciti alla crescente legione dei contractor militari privati, che stanno in linea di massima lentamente rimpiazzando l'esercito degli Stati Uniti. Oppure, per quanto riguarda l'amore, avete bisogno di un appuntamento ma non volete guardare attraverso tutta la nebbia? Le donne ora avranno un appuntamento con il più alto offerente su alcuni siti di incontri. Dimenticate il chattare. Basta sborsare un paio di centinaia di dollari. Per permettervi di pagarle la cena, ovviamente. Sono sicuro che sarà una relazione lunga e duratura. Forse, cosa più importante, la tua azienda ha bisogno di una legge per garantire i profitti? Bene, basta assumere un lobbista per influenzare il congresso. Come ha indicato il precedente episodio di Culture in Decline, non c'è niente nel politico e nel legale che non sia chiaramente in vendita. Infatti, perché pensate che il sistema giudiziario consenta nella maggior parte dei reati di essere cancellati con fondi monetari? Ma anche se fate qualcosa di molto brutto e siete bloccati in prigione, non vi preoccupate perché in alcuni casi potete pagare circa 80 dollari a notte per un buon trasloco. Ha una cella tranquilla e pulita in un'area carina della prigione. Lo potete nominare, lo potete comprare, nulla è sacro. 143 anni dopo il passaggio del tredicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e 60 anni dopo che l'articolo 4 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo bandisse la schiavitù e lo scambio di schiavi nel mondo, ci sono oggi più schiavi di qualsiasi altro momento della storia umana, un traffico di circa 30 milioni per vari progetti di profitto. Ma per quanto riguarda l'etica potreste chiedere, beh, che dire di quella? Etica e moralità continuano ad essere ridefinite dalla filosofia economica del giorno e quando un operatore di Wall Street fa milioni di dollari scommettendo contro la moneta e quindi la prosperità di un altro paese, posso assicurarvi che dorme come un bambino la notte. E perché non dovrebbe? Sta semplicemente facendo ciò che è remunerato e rafforzato dall'intero sistema economico. La psicologia intrinseca del mercato non ha a che fare con nulla eccetto che la sua stessa perpetuazione. Quando si sente dire che i politici stanno invadendo un paese povero per portare libertà e democrazia, devi capire cosa quelle parole implicano veramente. La libertà che portano è libertà nel mercato e la democrazia che portano è la democrazia di comprare il potere. La libertà di usare il denaro per avere autorità, in realtà si tratta della libertà di limitare la libertà altrui. Comunque torniamo alle cose tecniche, mettendo da parte le distorsioni della logica di mercato che ora mette tutto in vendita, mettendo da parte la falsa premessa che il meccanismo del prezzo calcoli realmente in maniera opportuna le vere caratteristiche di una pratica economica sostenibile ed efficiente e mettendo da parte il disordine nel sistema di valori fondamentali che si dirama dalla base generale di informazione, facciamo un piccolo quiz. Benvenuti ad Economia Moderna 101. Domanda 1. Se viveste su un pianeta con risorse finite e una popolazione in crescita, incoraggereste un'economia basata sul bisogno della crescita e sul consumo per far sì che ogni cosa funzioni? Risposta corretta, no. Il fatto che la nostra economia richieda letteralmente un consumo e una crescita costante per mantenere il pillagalla e la gente impiegata è il segno distintivo non di un'economia ma di un'anti-economia. Domanda numero 2. Se foste un produttore, fareste prodotti che siano il più resistenti a duratori possibile data la natura finita delle risorse e aveste un interesse nel massimizzare la produttività lavorativa? Risposta sì. Oggi è il contrario. E non solo tutti i prodotti sono inferiori nel momento in cui sono fatti, a causa dell'esigenza di efficienza nei costi delle aziende per rimanere competitive. Molte compagnie praticano anche ciò che è chiamata obsolescenza pianificata, che riduce deliberatamente la qualità dei beni per favorire i continui acquisti per un maggiore profitto. Domanda numero 3. Se foste un progettista socio-economico, incoraggereste ognuno a comprare di tutto, accumulando quella proprietà personale protettivamente, sebbene molti prodotti siano usati di rado? Risposta no. Sarebbe inefficiente. Dovrebbe essere compreso il fatto che i beni siano tanto rilevanti quanto il loro utilizzo e che, quindi, un sistema di accesso condiviso, non una cieca proprietà universale e restrittiva, sarebbe il modo più razionale di procedere. Domanda numero 4. Riguardo gli incentivi, incoraggereste uno spietato ambiente competitivo dove ognuno pensa a se stesso o a un piccolo gruppo? La risposta corretta no. Sapendo ciò che sappiamo oggi, sulla mentalità competitiva è il modo in cui genera violenza, insieme alla verità che la collaborazione e la condivisione di informazioni siano veramente i motori del progresso a livello sociale. La competizione sarebbe vista come l'organizzazione più limitativa, come pratica filosofica. Domanda numero 5. Quale sarebbe oggi la base per il compensare? Pretendereste che ogni persona si sottomettesse ad altra per lavoro, in modo da conseguire mezzi per la sopravvivenza? No, sarebbe incivile e controproducente, dato lo stato della tecnologia. La capacità tecnica moderna è in grado di aumentare la produttività, al di là di qualsiasi cosa conosciuta nella storia umana, per non parlare dell'ottenere più sicurezza ed efficienza in generale. Forzare il lavoro umano per il reddito di fronte a questo strumento di grande miglioramento è semplicemente assurdo. Pensieri finali. Se dovessimo fare un passo indietro e riflettere su come oggi la specie umana si stia comportando verso il mondo, dal materialismo occidentale all'estremismo islamico, dalla guerra nucleare alla necrofilia, veniamo messi di fronte a una realtà oscura, ma ancora estremamente divertente. Il fatto reale è che siamo scimmie allo stato selvatico. Appena fuori dalla giungla di questo pianeta, con le parole del defunto grande George Carlin, uscendo a piccoli passi dal Medioevo, infatti, da un periodo di profonda paura e confusione rispetto a ciò che siamo, cosa stiamo facendo, come ci relazioniamo con gli altri, per non parlare di come ci rapportiamo con l'ambiente che ci ha generati? Da un lato abbiamo una vasta rappresentazione della presunzione umana, ignoranza ostinata, così tanto che se siete come me, qualche volta pensate addirittura perché dovremmo provare, che forse questa specie meriti qualsiasi cosa le accada e il suo destino come un cul de sac evolutivo, una mutazione genetica errata potrebbe essere una speranza ideale per questo universo. Comunque cinismo a parte, è facile vedere che c'è un cambiamento in aumento tra la minoranza, che diventerà lentamente di maggioranza se lo permettiamo. Si sta verificando un risveglio, un risveglio in cui le persone hanno smesso di imporre le loro idee tradizionali e i veri bagagli ideologici sul mondo e stanno invece incominciando ad ascoltare. Ascoltare ciò che gli strumenti del nostro ingegno ci hanno offerto, ascoltare il messaggio della natura stessa. Se c'è un contesto che necessita di un serio intervento rispetto alle leggi naturali che ci governano, se c'è un contesto in cui abbiamo bisogno di prestare semplicemente attenzione, prepararci ad abbandonare tutte le nostre ipotesi precedenti e cambiare conseguentemente, è nel contesto economico. L'economia non è solamente una qualche astrazione arbitraria per elaborare e distribuire le risorse, si tratta di un modellatore di valore e di fondo che ci programma con modalità di comportamento, che si estendono in ogni area della nostra psicologia. E la religione globale operativa, che alle persone piaccia o meno, è per quelli che tra noi desiderano vedere la ragione trionfare sopra il dogma. Abbiamo davanti a noi una lunga, lunga strada. I sostenitori del modello di economia del libero mercato vi diranno che non c'è nessun altro sistema possibile per organizzare la società, che la base competitiva è l'unico modo per incentivare la nostra cultura primitiva. Essi vi diranno che l'interferenza economica ridotta dal governo è la chiave per preservare la vera integrità dell'economia di mercato ed anche la nostra cosiddetta libertà, che dicono sarebbe velocemente danneggiata in quanto si presenteranno di certo tirannia ed oppressione se fosse applicata una qualsiasi tipo di programmata pratica economica cooperativa. Parlano del vero libero mercato, un ideale utopico nel quale afferma che la mano invisibile, se lo fosse consentito di andare avanti senza interferenze, allevvierebbe la povertà, la miseria, gli abusi, la corruzione, i conflitti e l'efficienza, così comuni oggi nel mondo. Beh, come tutte le religioni, la delusione è comune. Poiché oggi il mercato è in realtà più libero che mai, con la Stato che è niente più che una società madre, che lavora per aiutare le sue consociate commerciali che lo sostengono. Tutto è in vendita e nessuno è responsabile. Tutte le leggi naturali e le realtà fisiche che costituiscono la base per una vera efficienza tecnica sulla Terra, insieme alla consapevolezza e ragionamento che si adottati possano letteralmente trasformare il mondo in un posto con grande abbondanza e prosperità mai viste prima, sono state rispinte e sepolte. Solo per essere messe in ombra da un determinato tipo di efficienza. L'efficienza del mercato. Un'efficienza che tiene conto dei soldi e solo dei soldi. Un'efficienza che è letteralmente scollegata da tutto ciò che aiuta e assicura la vita stessa. Un'efficienza che è circolare nella sua motivazione, in quanto non ha alcun riconoscimento delle leggi fisiche della natura. Le leggi della natura, le quali sono di fatto l'unico ed unico vero governo e il sistema regolatorio che è sempre esistito e che sempre esisterà. Ma ancora una volta chi può dire che importi? Forse dovremmo semplicemente accettarlo tutti con facilità. Forse questo reality show del genere umano, questa parodia satirico-tragica di se stesso, per essere sicuri, facendo tutto ciò che sa, forse questo è il modo in cui funziona e le nostre menti, i nostri geni sono confusi. E stiamo solo aspettando la traccia della risata finale quando l'astronave Terra sbatte contro il muro di mattoni psicologico. Penso che il tempo ce lo dirà. E fino ad allora appoggiatevi allo schienale, prendete i popcorn e continuate a guardare il più grande reality show di tutti i tempi. Alla prossima volta, sono Peter Joseph, un agente e una vittima di una cultura in declino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vorrebbe parlare di economia? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.